La frontale che il portiere vede... Secondo un amico che era presente qui in studio e di cui non faccio il nome, un vero grande portiere avrebbe staccato la testa, il pallone e tutto quanto. Chi l'ha detta questa cosa? Un amico che era qui in studio, un vecchio grande difensore e giocatore. Quel signore che non viene da qualche puntata qui? L'ex elegante stop? Ha ragione, ha assolutamente ragione, un portiere vede. In questo caso poi avrebbe staccato quella di Melo e non sarebbe stato... Un danno! Allora, prima della moviola di Carlo Lovato...